Salve ragazzi e bentornati su videogiocitalia.it Io sono Antonello Santo Paolo e questa è la rubrica delle video interviste. Per chi non ci conoscesse in questa particolare rubrica intervistiamo tutti quegli artisti impegnati dietro la lavorazione di un videogioco. Parliamo di attori, doppiatori, registi, sviluppatori, illustratori ovvero tutte quelle personalità che si celano dietro la lavorazione di un videogioco. Raggiunti i 60 ospiti, ebbene per chi non ci conoscesse abbiamo già 60 ospiti alle spalle, quindi avete davvero una vasta scelta all'interno della nostra rubrica. Raggiunti questi 60 ospiti non potevamo che appunto ricominciare con un doppiatore davvero importante. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Riccardo Nisim Onorato. Ma prima di iniziare vi ricordo di fare mi piace e di iscrivervi con la campanella attivata. Mi raccomando ragazzi è fondamentale per i feed e per tutto quanto. Questo è l'unico modo per far crescere il canale. Mi raccomando attivate la campanella. Ebbene oggi avremo una grande testimonianza di Riccardo Norato, uno storico doppiatore e ovviamente nella fattispecie nei videogiochi. Quindi sentiremo la sua testimonianza per quanto riguarda un personaggio di Assassin's Creed ovvero Connor Kenway, protagonista di Assassin's Creed 3. E quindi iniziamo. Buona visione. Riccardo Nisim Onorato nasce a Stezzano il 24 ottobre del 1966. Figlio dell'attore e doppiatore Glauco Onorato che ricordiamo uno dei doppiatori più significativi e importanti della sua generazione. Tanto per dirvene una, Glauco Onorato ha doppiato Bud Spencer e inoltre ha partecipato a numerosissime pellicole insieme ad alcuni dei registi più importanti della cinematografia italiana. Parliamo di Edoardo De Filippo e Vittorio De Sica, ragazzi. Riccardo Nisimondo si avvicina al mondo del doppiaggio da giovanissimo ovviamente anche tramite l'influenza del padre. Inizia infatti questo mestiere già all'età di 6 anni per poi riprendere successivamente in maniera stabile questa professione a partire dai 16-17 anni di età. Prima di iniziare con l'intervista ovviamente ricordiamo anche che cosa ha doppiato Riccardo Nisimondo Rato e la voce da oltre 20 anni di Jude Love ha doppiato Eric Bana, Benedict Cumberbatch ha doppiato anche Ian Somerhalder. Ricordiamo delle pellicole dove Riccardo Norato ha prestato la sua voce per alcuni degli attori citati poc'anzi. Ricordiamo appunto Jude Love in Il talento di Mr. Replay Era mio padre Sherlock Holmes Eric Bana in Hulk Troy Benedict Cumberbatch in 12 anni schiavo The Imitation Game Paul Rudd in Huntman Capitano America Civil War Avengers Endgame Ghostbuster Legacy Per quanto riguarda le serie tv ovviamente ha prestato anche in questo caso la voce a Jude Love in The Young Pop The New Pop ha prestato la voce a Ian Somerhalder in Smallville The Vampire Diaries e Dana Ashbrook in I Segreti di Twin Peaks Per quanto concerne invece i nostri amati videogiochi è stata la voce di Connor Kenway in Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 3 Liberation Assassin's Creed 4 Black Flag Varian Rean in Heroes of the Storm World of Warcraft e Jefferson Peralez in Cyberpunk 2077 Oggi siamo qui per scoprire qualche aneddoto sul doppiaggio di Connor Kenway Connor è un assassino appartenente a una tribù dell'America del Nord nipote diretto del pirata Edward Kenway nonché protagonista di Assassin's Creed 4 Black Flag e di Desmond Miles cresciuto in un villaggio insieme alla madre vide perire quest'ultima a causa di un incendio il suo obiettivo è quello di vendicare la madre e il suo villaggio dai responsabili e quindi ragazzi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare con la prima domanda prima di iniziare io vi ricordo che qualora vi foste interessati a leggere questa intervista nel formato testuale di passare direttamente sul nostro sito videogiocitale.it lo trovate giù in descrizione e in questo momento in alta a destra come cliccabile dai vostri dispositivi mobili e quindi iniziamo con la prima domanda che come dico spesso è piuttosto scontata ma comunque è necessaria anche per conoscere i primi passi dei nostri ospiti e quindi ti chiedo Riccardo come ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio? beh diciamo che mio papà fa questo lavoro faceva questo lavoro da tantissimi anni e quindi diciamo è stata una cosa abbastanza semplice e naturale ritrovarmi all'interno di questo mondo perché sin da quando ero piccolino mio papà mi portava in giro per le sale di doppiaggio e a un certo punto quando ho deciso cosa fare da grande ho trovato questo lavoro abbastanza semplice perché già lo conoscevo da piccolo ho iniziato da bambino più o meno verso i 6-7 anni e poi ho fatto altro e ho ripreso in mano questo lavoro quando avevo 15-16 anni grosso modo e da allora da allora sono andato avanti non mi sono mai mai fermato uno dei personaggi più significativi che hai doppiato nel panorama videoludico è sicuramente Connor Kenway protagonista di Assassin's Creed 3 trattandosi di una personalità piuttosto controversa e enigmatica cosa puoi raccontarci del doppiaggio di questo particolare e importantissimo videogioco? allora il doppiaggio di di Connor in Assassin's Creed 3 è stata un'esperienza quasi mistica direi perché comunque doppiare un videogioco non è una cosa semplice ti ritrovi dentro a un box davanti a te hai soltanto uno schermo con delle onde sonore hai le tue cuffie e devi ripetere senti in cuffia la voce originale e devi ripetere le stesse cose con la stessa intonazione non hai le immagini infatti noi non avevamo nessun tipo di immagine avevamo solo dei primi disegni che erano stati fatti e mandati allo studio diciamo di doppiaggio dove facevamo questo videogioco e dai disegni ci appariva Connor con delle caratteristiche fisiche che poi non abbiamo più riscontrato quando abbiamo visto il videogioco nel senso che era era molto esile nei disegni e quindi abbiamo cercato di trovare una vocalità anche un po' leggera per stare dentro un corpo un pochino esile poi quando l'abbiamo visto invece che c'era il collo tipo Pappalardo era una bestia enorme ci siamo resi conto che forse ci avevano mandato dei disegni che non erano proprio adatti per poter doppiare al meglio quel personaggio però poi strada facendo ci siamo un pochino ripresi quindi questo è stato divertente e abbastanza strana come cosa per un chi fa doppiaggio è abituato a vedere una faccia a vedere avere delle espressioni a vedere gli occhi della persona che tu vai a doppiare nel videogioco questo non c'era quindi è tutto un modo di lavorare completamente diverso assolutamente è stata un'esperienza particolare come dicevo prima quasi mistica perché dovevo immaginarmi tutto qualsiasi cosa io poi vabbè amo videogiocare quindi cercavo di immaginarmi un pochino come poi sarebbe venuto il gioco e va insomma è andata alla fine ce l'abbiamo fatta ti è mai capitato di provare un videogioco che hai doppiato? mi è capitato di doppiare dei videogiochi che poi ho anche giocato sì Assassin's Creed non l'ho giocato l'ho provato me lo sono comprato ho provato a giocarci però ecco non mi ci sono trovato tanto tanto bene un videogioco che ho doppiato e al quale ho giocato e ogni tanto devo essere sincero ci rigioco ancora anche se il mio personaggio purtroppo non c'è più è World of Warcraft in cui doppio doppiavo il re King Varian il re di Stormwind dell'alleanza e quindi a quel gioco ci ho giocato veramente tanto non so quante ore giorni mesi anni no anni sì lo so perché perché ci gioco dalla sua prima beta quindi parliamo di 16 anni forse credo forse qualcosina di più ma insomma ho una vita ho una vita quindi quello è stato il videogioco che ho doppiato e al quale ho giocato di più in assoluto quali sono i consigli che daresti a nuovi aspiranti doppiatori consigli che posso dare ad aspiranti doppiatori fondamentalmente questo lavoro il lavoro del doppiaggio è un lavoro attoriale quindi bisogna essere degli attori o attrici quindi bisogna studiare recitazioni bisogna fare un corso di teatro essere degli attori perché tu vai a riprodurre quello che ha fatto un attore su un set cinematografico e come puoi farlo se non sei anche tu un attore se non conosci l'ABC quindi non è solo tecnica il doppiaggio quella è la cosa più semplice imparare l'edizione il sync l'uso corretto della voce sì quelle cose si studiano si imparano ma tutto quello che ci serve è cominciare a capire che cosa abbiamo dentro le nostre emozioni per poterle mettere a servizio del personaggio che stiamo doppiando quello è fondamentale è un lavoro terapeutico bisogna conoscere qui dentro quello che c'è qua per poterlo tirar fuori conoscerlo muoverlo utilizzarlo quando ci serve e metterlo a disposizione del doppiaggio che stiamo facendo quindi il consiglio primario che do è studiare recitazione studiare tanto 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 guardare film andare a teatro fare una scuola valida di teatro e poi piano piano uno può decidere di specializzarsi anche nel doppiaggio ma non partire subito così voglio fare doppiaggio faccio una scuola di doppiaggio se non hai le basi ok perché ti troveresti poi in grossa difficoltà quale è stato il personaggio più difficile da doppiare e a quale sei più affezionato personaggio più difficile che ho che ho doppiato ma ce ne sono stati tanti anche perché i personaggi più difficili paradossalmente sono quelli più belli quelli che mi hanno poi dato più soddisfazione ovviamente ricordo benedith camberbatch che ho doppiato in parecchi film in the imitation game quello è stato un film molto difficile però che mi ha dato una soddisfazione incredibile poi vabbè doppio giudolo da 21 22 anni l'ho doppiato in tutti i modi in tutte le salse in un film in particolare che si chiama Dom Hemingway un film che è uscito al cinema ma è stato pochissimo film uno dei film più difficili che io abbia mai doppiato faticosissimo a livello fisico vocale quello è stato veramente un film che mi ha mi ha distrutto fisicamente e psicologicamente un film molto difficile è stato Amabili Resti in cui doppiavo Mark Wahlberg e questo film mi ha distrutto e devastato psicologicamente perché è la storia di un padre al quale viene rapita e stuprata e uccisa la figlia la figlia piccola 10 anni 9 10 11 anni grosso modo e ricordo che durante il doppiaggio di quel film c'erano dei momenti in cui la mia emozione il mio sentimento era più forte rispetto a quello dell'attore quindi il pianto il groppo in gola e non riuscivo ad andare avanti con il doppiaggio quindi dovevamo fermarci fare delle pause e quello è stato un film devastante bellissimo devastante noi ti ringraziamo per la tua disponibilità ma prima di andare vorremmo conoscere un curioso aneddoto sulla tua carriera raccontaci un po' guarda di aneddoti ce ne sarebbero tanti da raccontare il primo che mi viene in mente è una cosa un po' a luci rosse non so se si può raccontare ma io lo racconto ci ho fatto anche un video sul mio canale youtube l'ho detto quindi lo ridico anche qua negli anni 80 andava di moda a doppiare i film pornografici i film a luci rosse e molti di noi li abbiamo doppiati io confesso che l'ho doppiati e ricordo che una delle prime volte in questa sala di doppiaggio ero a fare un turno appunto di un film porno dove i dialoghi erano veramente ridotti all'osso come potete ben immaginare e stavo a leggio dovevo doppiare insieme con altre due colleghe mie una a destra e una a sinistra e la scena rappresentata sullo schermo era un tipo un uomo in piedi nudo e queste due ragazze attrici che erano inginocchiate di fronte a lui insomma immaginate che cosa stava succedendo e quindi io dovevo fare i versi di lui no che riceveva questa cosa e le mie due colleghe doppiatrici una di qua una di qua dovevano fare invece i versi di quelle due attrici che erano inginocchiate di fronte a lui quindi io ero là sentivo nelle mie orecchie loro che facevano i versi io facevo i versi ma alla fine è stata una cosa che ci siamo messi a ridere e non siamo potuti andare avanti per diverso tempo perché era una roba poi poi chiaramente entri nella professionalità quindi sai che quello è il lavoro va fatto e l'abbiamo fatto siamo riusciti a farlo però ragazzi le risate le risate veramente imbarazzante quindi tutto qua se vi serve altro fatemelo sapere ok un saluto a tutti io sono Nisim Riccardo Onorato e faccio questo lavoro dal 1973 che ero quindi ero piccolo piccolo e vediamo un po' fino a quando mi diverto ancora a farlo questo lavoro quindi fino a che mi divertirò proverò a farlo poi quando non mi divertirò più cercherò di fare altre cose vediamo un po' a presto ciao a tutti bene ragazzi anche questa video intervista è giunta al termine io vi ricordo di fare mi piace e di iscrivervi con la campanella attivata mi raccomando ragazzi è fondamentale ebbene siamo già 61 ospiti non ci fermiamo qua per fine mese avremo un'altra video intervista non vi svelo chi non sarà un doppio tore questa volta e niente un saluto e alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti